Sulla difficile situazione delle terme di Caramanico interviene il gruppo consigliare del Partito Democratico che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa a Pescara alla quale hanno partecipato anche lavoratori e rappresentanti degli operatori commerciali. In particolare i consiglieri regionali Antonio Blasioli e Silvio Paolucci hanno presentato i testi di una risoluzione di una interpellanza invocando un intervento immediato della regione Abruzzo. Ci sono due provvedimenti di giunta regionale da mettere in campo, le risorse già sono state stanziate nella legislatura precedente, ci sono ulteriori 600 mila euro sui budget legati alla sanità e 900 mila euro per quanto riguarda il bilancio regionale circa la cosiddetta quota sociale, sommati un milione e mezzo di euro a disposizione se vengono adottate due delibere di giunta regionale che pure appunto allo Stato non ancora vengono adottate. E' un'aggiunta molto lenta che sta rallentando la nostra regione che non affronta i grandi temi legati all'economia del territorio come quello del termalismo che sta producendo disoccupazione, un grandissimo ritardo nell'attivazione della stagione turistica e oggi lamentano non soltanto il comune di Caramanico e quella comunità ma un'intera vallata, un'intera regione che rischiano di perdere il collegamento storico con il turismo collegato al termalismo.